chi si mette prima in ginocchio vede la madonna uno due tre via ho vinto io guarda mi è apparsa la madonna tu sbagli candeggio io uso ace perché ace smacchia a fondo e senza danno ace smacchia a fondo senza strada certo o cosa ha detto ha parlato del peccato 150 millilitri di candeggina per 10 litri d'acqua lasciare in ammollo per 30 minuti o cosa c'entra col peccato no perché ieri ho sbagliato candeggio con una camicia nuova era da armani o ne è un peccato